L'Aggiunta regionale ha approvato il programma di partecipazione alle fiere nazionali ed internazionali del turismo per l'anno 2021, che dovrà attuare in collaborazione con Union Camera e Campania. Le fiere del turismo promuoveranno nella chiave di lettura nuova imposta dall'emergenza Covid prodotti e servizi sul mercato interno, turismo di prossimità ed estero attraverso il contatto diretto tra gli operatori del turismo in vista di una futura ripresa dei flussi internazionali a seguito delle campagne vaccinali. In questa situazione di grande incertezza è importante che la destinazione Campania sia ben posizionata nella comunicazione di settore, evidenziando i propri valori attrattivi e distintivi legati alla cultura, alle tradizioni, alla natura, all'enogastronomia, alla ricettività, alla salute e al benessere. Nel tavolo istituzionale con la partecipazione dell'Agenzia Campania Turismo, di concerto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e il sistema delle camere di commercio regionali, sono state individuate le fiere più rappresentative a livello locale, BMT di Napoli e BMTA di Pestum, nazionale e internazionale, da Milano a Rimini, da Berlino a Barcellona, Londra e Cannes, riservando una particolare attenzione al segmento MICE, che procura cospicui introiti alle aree urbane specializzate in questo settore. Nonostante il periodo di profonda crisi economica e le grandi difficoltà organizzative, la regione campagna conferma la partecipazione al complesso ambito nel sistema fieristico, ripensato in un quadro innovativo di interventi, dichiara l'assessore alla semplificazione amministrativa e al turismo Felice Casucci. Gli operatori campani, particolarmente danneggiati dall'emergenza pandemica, verranno coinvolti nei nuovi modelli di governance e parteciperanno con pieno senso di responsabilità alle iniziative da assumere per garantire loro benefici tangibili sulla ripartenza per un turismo esperienziale di alta qualità.